Buongiorno amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Questa mattina cominciamo subito con vedere chi è il santo del giorno, anzi ne troviamo due. Oggi infatti si festeggiano i santi Faustino e Giovita. Erano due fratelli, nacquero a Brescia e vennero educati da cristiani sotto l'imperatore Adriano. L'uno divenne sacerdote, l'altro diacono. Si dedicarono soprattutto alla predicazione e ottennero molte conversioni. Come accadde ad altri martiri furono denunciati e invitati a sacrificare agli dei dell'impero, ma essi rifiutarono decisamente. Furono dunque dati come condanna in pasto alle fiere, ma anche le fiere si ammanzirono. Allora l'imperatore decretò che furono pure condannati a morte con il taglio della testa. Insomma, martiri dedicati in possesso di una grande fede, di una grande determinazione per appunto attestare la loro fiducia nel nuovo Salvatore Gesù Cristo. Ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo. Questa mattina il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 17.38. Il tempo questa mattina si mantiene stabile con piogge e rovesci sparsi a partire da nord. Più stabile e asciutto tra Ascolano e Fermano. Le massime arriveranno fino a 14 gradi. Non è eccessivamente freddo nemmeno questa mattina e le temperature diventeranno ancora più umidi nel corso della giornata. Però insomma il tempo è brutto. Ed ora iniziamo la nostra rassegna stampa a partire dal resto del Carlino questa mattina sulla pagina di Fano. Abbiamo grosse novità per quanto riguarda la sanità. La Regione finalmente ha stanziato quelle risorse finanziarie che servono per realizzare nuove strutture. Non si parla quindi solo di nuovi servizi o di personale. Si parla proprio di strutture ovvero di ospedali. Con 5 milioni l'hospice pediatrico è realtà. Si era rimproverata la Regione Marche perché alla notizia di istituire un hospice pediatrico a Fano per le cure pagliative. Non era seguito lo stanziamento finanziario necessario. D'ora invece questo vuoto viene ricolmato. La Regione stanza i fondi. In più sono in arrivo 16 milioni per il Santa Croce per realizzare una nuova palazzina. Ospiterà l'emergenza. La notizia è stata diramata nel pomeriggio di ieri dopo una riunione della Giunta Acquaroli dal Consigliere regionale Luca Serfilippi e dal Vicepresidente della Regione Marche Mirko Carloni. In questo articolo di spalla abbiamo un lutto. Purtroppo è deceduto a 85 anni Don Paolo Gramolini. È morto questo sacerdote che era stato ordinato appunto a Metauriglia ma era soprattutto un uomo di insegnamento. Aveva insegnato religione al liceo classico Nolfi per tanti anni a più generazioni di studenti ed era anche uno psicologo e grafologo. Aveva collaborato con il consultorio la famiglia. Da tempo viveva nella casa del clero ed era benvoluto da tutti, soprattutto da giovani. I suoi funerali si terranno domani in cattedrale. Schianto a Fenile con tre auto grave, una quarantenne. È successo ieri nella strada che porta a Santa Maria dell'Arzilla, ovvero la strada che da Fenile porta verso Carignano. È stata una vera e propria carambola. Una donna di 41 anni è rimasta ferita ed è stata portata in Ancona con l'eliambulanza. L'incidente ha visto coinvolto una Citroen guidata appunto da una Moldava di 41 anni, la quale ha perso improvvisamente il controllo della vettura, andando a sbattere contro una Kia Sportage guidata da una ragazza di 29 che proveniva nel senso opposto. Ebbene questa seconda vettura, poi finita fuoristrada, ma senza particolari conseguenze per la conduttrice, intanto la C3, la Citroen, a sua volta è carambolata, è andata a finire su una terza auto, una Fiat Pic guidata da un 42enne di Fano che ha riportato delle echimosi e poco più, insomma, un'evere e propria carambola che ha richiesto l'intervento della polizia locale appunto nella giornata di ieri. Il Comune ordina lo sgombero ai giudoca nella palestra di Cucurano e gli atleti del club presieduto da Mencucci protestano, assurdo, dicono. Andrea Mencucci, presidente del Judo Club di Fano, evidenzia la sua protesta questa mattina sui giornali per lo sgombero, è ordinato appunto con una ordinanza dal Comune. sembra che la società abbia occupato nel pomeriggio degli spazi in maniera abusiva e in maniera indebita, comunque appunto la società nega questo ed evidenzia la sua protesta. Mi descrivono come un abusivo e bugiardo, invece sono loro le inadempienze, ha dichiarato Andrea Mencucci, appunto presidente del Judo Club Fano. Viale Dante, il problema non sono i tir, ma i pedoni, il nodo della sicurezza in questa via importante, parallela a Viale Adriatico in Sassonia e dopo l'iniziativa della Nucco Promo, appunto che ha istituito il suo nuovo stabilimento in zona Porto, oggetto appunto di attrazioni, di molti carichi, di molti tir che ora raggiungono la zona mare, anche i residenti sollecitano il profetto, il prefetto, occorrono dei provenimenti che possono tutelare la sicurezza dei pedoni. Via Dante Lighieri non ha una careggiata molto larga, ci sono i parcheggi da una parte e dall'altra appunto, ma comunque l'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di istituire dei parcheggi in modo che si lasci una zona sicura per i pedoni tra questo e le facciate delle case. Insomma, se ne è parlato anche nell'ultima seduta del Consiglio Comunale e di questo appunto ha relazionato l'assessore alla viabilità Fabiola Tonelli. Devastazione fuga con 16.000 euro di bottino, un furto che si è verificato a Marotta, un bottino cospicuo per i ladri che nella notte tra sabato e domenica a Marotta hanno preso di mira un'abitazione in Via Napoli. Ebbene, qui i padroni di casa non c'erano, si tratta di una giovane coppia con due bambini di 14 mesi e 8 anni, i quali hanno passato il sabato sera e parte di una domenica a casa di un congiunto. I ladri sono penetrati all'interno dell'appartamento e si sono impossessati di numerose apparecchiature di valore, oggetti d'oro, per un totale almeno di 16.000 euro, insomma computer e gioielli insomma che erano in possesso della coppia. I ladri hanno usufruito dei ponteggi per i lavori della facciata che erano state appunto innalzati per realizzare i lavori di strutturazione del fabbricato. E ci sono state incursioni anche a Ponte Sasso, quindi è una banda particolarmente aggressiva. A Mondolfo, dopo la Guardia Medica, è a rischio anche il 118. Lo evidenzia il segretario del circolo locale del Partito Democratico, Samuele Mancini. Il sindaco ha detto si limita a scaricare la responsabilità sulla regione e sull'Azur, trovi invece le risorse. Questo l'invito che fa appunto il responente politico. Ci risulta che la Potes stia per lasciare la sede di Viale Europa per una meno adatta, ha dichiarato Mancini. Ad Urbino si parla ancora del commissariato, perché il commissariato ancora non ha trovato una sede idonea, almeno per mettere d'accordo tutte le parti. Per il Movimento Urbino, città ideale, il commissariato deve rimanere in centro. Il Movimento non ha dubbi e rigetta l'ipotesi della sede al Sasso. La zona indicata non è adeguata, ha dichiarato appunto anche Lino Michelli, già vice sindaco e fondatore del Movimento Urbino, città ideale. Viva Urbino e PD al Comune. Si ripristini il bus per Roma. Una linea su gomma, questa molto importante, per consentire a molti urbinati di raggiungere la capitale in giornata e di tornare a casa nello stesso giorno. In questo caso sono i gruppi consigliari Viva Urbino e PD Urbino, quindi i consiglieri Mario Rosati, Lorenzo Santi, Carolina Borgiani e Davide Balducci, a intervenire sulla richiesta per il ripristino della linea Autobus Urbino-Roma. Una richiesta che va fatta alla Società di Gestione dei Trasporti Provinciali. A Montecopiolo, dopo la secessione, c'è il default, c'è un buco di bilancio che deve essere coperto. La Regione Marchi si rifiuta appunto di dare questi contributi dal momento in cui Montecopiolo è passato in Romagna. Però, insomma, il sindaco in questo caso insorge e dice che la Regione deve pagare. Passiamo alla pagina di Pesaro dove vediamo, anzi, passiamo soprattutto dalla Regione prima perché vediamo appunto questo grande provvedimento che interessa la sanità. Una notizia importante, forse la notizia più importante del giorno. Per la sanità della provincia 217 milioni provengono appunto dalla Regione. Nuova vita, case e ospedale di comunità. La Regione ha approvato la delibera che rivoluziona medicina del territorio e strutture. Nasceranno sei palazzine per l'emergenza urgenza, una delle quali appunto nei pressi del Santa Croce a Fano. E vediamo che l'importo totale è di 923 milioni per gli investimenti negli ospedali, tra interventi in esecuzione, in cantiere e progetto. Si realizzerà il nuovo ospedale di Pesaro, 150 milioni, nuove strutture per le emergenze sia a Urbino che a Fano e la ristrutturazione integrale dell'ospedale di Pergola. Per quanto riguarda Pesaro, oltre all'ospedale appunto, al nuovo ospedale di Muraglia, ci sono 2 milioni e mezzo per la casa di Galantara, l'ospedale della comunità e il centro operativo emergenza. A Cagli invece ci sono prima 500 mila euro per la casa della comunità e 6 milioni e mezzo per l'ospedale della comunità. A Mondolfo, 400 mila euro per la casa della comunità e lo stesso per la casa comunità di Fossombrone, 700 mila euro. Insomma, veramente sono risorse importanti che dovrebbero portare ad una maggiore efficienza soprattutto, non solo sulla costa, ma soprattutto anche nell'entroterra che è il territorio che ha più bisogno di strutture. E ieri si è parlato diffusamente in Consiglio Comunale a Pesaro anche del Casellino Sud, quello di Santa Veneranda. Adesso sembra la volta buona, intitola il resto del Carlino. Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza il progetto di autostrade che verrà realizzato appunto a Santa Veneranda. Ricci ha ripercorso 20 anni di ritarde. Nel dibattito del Consiglio Comunale si è fatta un po' una scena retroattiva. 20 anni di discussioni, di confronti, di dibattiti, insomma, non hanno portato a nulla. Adesso finalmente questo progetto è stato approvato. Se non ci saranno intoppi, ha detto il Sindaco, nel 2023 partirà la gara per la realizzazione del Casello Unidirezionale di Santa Veneranda. Speriamo che non ci siano altri intoppi. Ha poi incalzato Ricci perché, come ha detto il Consigliere Carlo Rossi di Europa Verde, il Casellino e le altre opere rivoluzionano la viabilità della città migliorandola. Della stessa idea non sono però i residenti di Santa Veneranda che temono appunto un aumento di traffico nella loro frazione, una frazione che è molto abitata, quindi ci sono molte case. È un aumento di traffico, certo, non è quello auspicato da coloro che vivono in quel punto. La giunta però, nella stessa seduta del Consiglio Comunale, non tocca l'addizionale IRPEF, difese, debuste e paga. Nessun aumento dell'aliquota locale, almeno per un altro anno, è il momento di ripartire, ieri appunto, in Consiglio Comunale. O mia sorella in Ucraina, la paura cresce. I racconti dei connazionali presenti in provincia, Comeliana, la cui parente medico, se Putin arriva, vanno tutti al fronte. Per fortuna c'è stato al momento un inizio di ripensamento da parte della Russia, la quale sembra disposta ad accettare nuove trattative. Comunque l'ansia e la preoccupazione di molti cittadini ucraini residenti nel nostro territorio, insomma, è veramente forte. hanno in quel paese ancora molti parenti, le loro case, insomma, le loro famiglie. Temere un'invasione russa con una guerra, una guerra veramente feroce, perché poi gli ucraini non è che stanno lì a guardare, quando vedono l'esercito russo cercano di difendere il loro territorio, insomma, è una cosa veramente atroce. Un'equindicenne trova e consegna un borsello con 2.000 euro. Era stato dimenticato da un rappresentante al tavolo di un locale alla pizzeria Tony di Via Milazzo. Voglio ringraziare quel ragazzo che è stato veramente onesto. Prefrancesco Allegrezza, 52 anni di Isola di Fano, rappresentante di commercio nel settore della caffetteria, a raccontare quello che gli è successo, è una soddisfazione, perché ha ritrovato fiducia nella gente, insomma, un borsello con 2.000 euro che è stato riconsegnato. E poi non possiamo non parlare di San Valentino, ieri la festa degli innamorati, molti fiori, meno posti a tavola, insomma, ci si è andati meno al ristorante. C'è stato un calo di prenotazioni nei ristoranti, però hanno così lavorato molto i fioristi e anche i pasticceri, insomma, spese più contenute per segnalare il proprio affetto, il proprio desiderio di amore. Parecchi ci hanno chiesto di portare i dolci a casa a forma di cuore. Ebbè, anche questo è un segno di affetto. Ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico. Vediamo un attimo il giornale sulla pagina di Fano. Eccolo qua. Vediamo che si parla anche qui del hospice pediatrico che si farà a Fano, destinati a questo proposito 5 milioni e mezzo all'ospedaletto di Via Tazzoli. Fondi reperiti nel masterplan dell'assessore regionale Baldelli. Il vicepresidente Carloni dice è un risultato storico. Veramente, finalmente, questo desiderio, espresso soprattutto dall'associazione Maruzza, da Elmo Santini, diverrà a realtà. A Fano converranno molte famiglie che abitano anche, che sono residenti anche nelle regioni limitrofe, nell'Abruzzo, nell'Umbria, nel Lazio, nella Toscana, perché nel centro Italia una struttura simile non esiste. E quindi Fano si evidenzia sempre più come la città dei bambini. Bambini, in questo caso, che soffrono. Per la sanità diffusa della provincia, 217 milioni. L'annuncio dei consiglieri della Lega. Abbiamo qui Cancellieri e Ser Filippi, sono i due consiglieri regionali del nostro territorio. Ebbene, anche le strutture, altre strutture, abbiamo visto prima, sul resto del Carlino, avranno i loro finanziamenti. E questa è una foto della paurosa carambola tra i tre veicoli che si è verificata ieri sulla strada per Bombaroccio. Dopo l'urto, con gli altri due mezzi soccorsi dall'eliambulanza. E vi ricordate la 41enne che è stata ricoverata all'ospedale di Torrette di Ancona. In questo articolo di Spalla abbiamo il lutto per la perdita di Don Paolo Gramolini, morto a 84 anni, 85, insomma, l'anno ancora doveva compiersi, maestro dei giovani, Don Paolo Gramolini, insegnante appunto di religione al liceo Nolfi. Lavoro ai disabili, la diocesi Bacchetta Laset. Insomma, la revoca del contratto con la cooperativa Contatto insomma, non è piaciuta a molti, né alla diocesi di Fano, né all'associazione Liberamente, né al gruppo Gramsci. Sono delle proteste, insomma non ci si spiega dal punto di vista, sì, forse ci si spiega dal punto di vista normativo, ma non dal punto di vista umano, come si possa rievocare un contratto a una cooperativa che impiega nel lavoro diversi disabili e che poi ha acquistato anche diversi mezzi per svolgere il suo lavoro, che ora rimarranno inoperosi. giudoclub, sfrattato dalla palestra, mutilato, un progetto educativo, il presidente Andrea Mencucci scrive all'assessora allo sport Brunori, ammareggiato per il trattamento. E poi abbiamo una fanese che si fa onore per la sua bellezza a Sanremo. si tratta di Maria Francesca Guerrieri, 18 anni fanese, che ha partecipato come vincitrice al titolo Moda Italia 2021, che le ha permesso di accedere di diritto al concorso di bellezza di Sanremo che si è svolto in concomitanza con il Festival Canoro, un altro successo di questa bella ragazza fanese che ha cominciato a frequentare i concorsi di bellezza con elusinghieri risultati dall'età di 14 anni. A Fossombrone la storica rotonda modello per qualificare ora la piazza è l'architetto Luzzi che apre il dibattito sulla stazione delle Corriere, critico però lo storico Savelli. E poi a fondopagina troviamo ancora una notizia che riguarda Fano perché si evidenzia il disappunto del consigliere comunale del Partito Democratico Enrico Nicolelli il quale si oppone alla mozione che è stata presentata in consiglio da tre consiglieri della maggioranza e uno della minoranza, due della maggioranza e uno della minoranza. Si tratta di Giovanni Clini, sempre del Partito Democratico, del capogruppo di Incomune Carla Luzzi e di Mazzanti, Mazzanti che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle, i quali vogliono porre fine alle discussioni dell'accessione o della fusione di Aset in Marche Multiservizi, una mozione che dovrebbe tagliare la testa al toro. Sbagliato, dice Nicolelli, precludere a priori questa possibilità, insomma, occorre ponderare caso per caso. E siamo ora sulla Val Cesano, a San Lorenzo in campo, rinasce il territorio, ormai giunto a buon punto questa rinascita. Il sindaco annuncia gli ultimi lavori, presto l'inaugurazione della palestra da 1,3 milioni di euro, che è l'intervento più importante che verrà eseguito. Comunque, nell'arco di un paio di settimane si concluderanno i lavori di ristrutturazione di via San Demetrio e via Vittorio Emanuele II nel centro storico del capoluogo, con il rifacimento totale dei marciapiedi, delle reti tecnologiche, dei sottoservizi e dell'arredo urbano. E poi, per quanto riguarda altri lavori, si menziona la parte di marciapiede che corre lungo il loggiato dove si trova la chiesa di Sant'Anna. I lavori sono già finanziati e poi non si può appunto non menzionare la palestra struttura polifunzionale che verrà ristrutturata con un investimento di 1 milione e 300 mila euro. Grande attenzione anche per le frazioni. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e restauro della porzione crollata delle mure castellane di Borgo San Vito sul Cesano. Vediamo ora le notizie che riguardano Pesaro sul Corriere Adriatico. Si parte da Ancona per arrivare poi al capoluogo della nostra provincia. Nuovi ospedali e macchinari la sanità oltre un miliardo è la cifra globale che la regione ha stanziato nel settore della sanità. 923 milioni il master plan dell'edilizia sanitaria di cui 759,3 già finanziati. 157 milioni le risorse aggiuntive regionali oltre a quelle appunto che vengono da altre fonti. 78 milioni i fondi europei. Arriva dunque da questa notizia la svolta per Pesaro San Benedetto e Macerata 6 strutture per l'emergenza Baldelli l'assessore regionale Francesco Baldelli cancellata la centralizzazione scelta dalla precedente giunta. Sappiamo come la sanità è cambiata nelle linee programmatiche della giunta Acquaroli rispetto a quella precedente. Contagi giù di un terzo meno pazienti covid nelle terapie intensive ebbene si migliora la situazione sanitaria della pandemia nel nostro territorio parametri da giallo ma le marche dovrebbero restare ancora arancioni fino al 28 di febbraio. Acquaroli protesta l'ho sempre fatto per quanto riguarda questo cambio di colore le attuali regole sono un paradosso ha detto è necessario cambiarle e vi invito a guardare questa tabella perché in questa linea marcata di rosso viene evidenziato il tasso di occupazione della terapia intensiva vedete come c'è stato un significativo calo oggi siamo al 16,4% insomma una situazione che evidenzia il miglioramento di coloro che sono stati riscontrati positivi al covid e quindi ricoverati in terapia intensiva in questo articolo vediamo la secessione carissima di Monti Capiolo che rischia per quanto riguarda il defu finanziario e poi diamo un'occhiata al problema della raccolta dei rifiuti a cui si fa fronte con i fundi del PNRR si punta ad una raccolta 2.0 una svolta storica anche questa per la raccolta dei rifiuti perché si tratta di installare i cassonetti intelligenti per l'ottimizzazione della raccolta e l'accesso controllato dei conferitori bisogna vedere insomma quanto ciascuno produce dei rifiuti e in base a questo applicare la tariffa questo è un principio di equità che dovrebbe essere applicato da per tutti e a Pesaro comincia a farlo e poi si parla anche di isole ecologiche informatizzate per l'accesso controllato e la redicontazione con i conferimenti e poi abbiamo infine l'informatizzazione del servizio raccolta dei rifiuti tramite dispositivi di lettura e svuotamento on board sui mezzi dunque Pesaro cambia cambia la raccolta e sono cambiamenti significativi una mano per pulire la città può essere data anche da coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza l'idea coinvolge gli assessori Belloni e Pandolfi insieme all'ATS il progetto riguarda appunto i percettori del reddito di cittadinanza impiegati a supporto degli uomini del verde pubblico si tratta della pulizia di vie spazi e piazze dal centro storico alla stazione ferroviaria fino al monumento della resistenza e siamo in conclusione ma prima voglio farvi vedere un articolo che riguarda di sport la vista ha cambiato passo Gucci è pronto al rientro a fermo si è disputata una gara convincente e per quanto riguarda il Fano Calcio l'ultimo risultato è piaciuto ai tifosi e i tifosi sono veramente un grande supporto per tutta la società e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani sempre alle ore 7 e intanto vi auguro buona giornata a risentirci